La Facoltà di Teologia ha ritenuto che il tema della educazione come veicolo volano dell'integrazione fosse davvero un tema centrale nel panorama attuale e anche all'interno della sensibilità politica della costruzione di una società. Questo tema indica un compito, il compito che una società matura deve affrontare con l'aiuto di tutte le persone competenti, di tutti i soggetti e le agenzie che possono venire incontro. La Facoltà di Teologia è una di queste agenzie e abbiamo ritenuto doveroso, pertanto, orientare il nostro anno, l'inizio dell'anno accademico dell'Istituto Religioni e Teologia, proprio specificamente su questa tematica. al servizio del territorio, al servizio dell'intero Ticino. Io credo, noi crediamo qui alla Facoltà di Teologia di Lugano, che la conoscenza delle altre religioni sia una delle cose più importanti proprio a livello sociale, per permettere cioè il rapporto tra le varie persone che ormai in una società appartengono a gruppi culturali e a gruppi religiosi in molti casi diversi e che però entrano spesso in contrasto, addirittura in conflitto, proprio perché non conoscono i criteri e i principi della cultura e della religione delle altre persone, dei loro stessi vicini. Quindi una costruzione di una solidarietà sociale, una costruzione di un rapporto pacifico tra le persone, passa oggi attraverso la formazione, la formazione e la conoscenza dell'altro. Il rapporto mondiale dell'UNESCO del 2019, di quest'anno, è stato dedicato a questo tema, educazione e processi migratori. I numeri sono chiari, i migranti nel mondo oggi sono circa 270 milioni, di cui 70 milioni sono i cosiddetti rifugiati, cioè le persone che scappano e sono costrette a scappare da condizioni di conflitto, di guerra e di disagio insostenibile. Ma quello che forse si sa ancora meno è che un terzo dei rifugiati globali è ospitato nei paesi africani. E sono molti i paesi africani che adottano politiche inclusive per far sì che a partire dai banchi di scuola queste decine di milioni di bambini possano avere un futuro di integrazione, un futuro di coesione. Ne cito alcuni, il Kenya, il Chad, che hanno inserito le scuole nei campi rifugiati all'interno del sistema scolastico nazionale. E questo dà un risultato importante, tangibile. Certo, è un tema scottante dal punto di vista politico, proprio perché le immigrazioni e l'immigrazione sfidano questa visione comune, questa accezione comune di territorio come qualcosa che è una proprietà esclusiva. E allora ci vuole un lavoro molto profondo, approfondito, che può partire certamente dalle scuole. Nelle nostre ricerche il ruolo delle seconde generazioni, e con seconde generazioni non intendo soltanto le seconde generazioni in senso stretto, cioè soltanto i figli di immigrati che sono nati qua, ma intendo anche i migranti, gli immigrati, diciamo, comunque giovani, hanno un bagaglio maggiormente ibrido che può essere rafforzato anche attraverso percorsi educativi, formativi. Il principio di base è che l'educazione è un diritto fondamentale umano, come il diritto alla salute, come il diritto all'espressione delle proprie idee, ai principi fondamentali della coesistenza pacifica, del riconoscimento della dignità della persona umana. Quindi, come tale, per noi, che siamo l'agenzia responsabile nel sistema delle Nazioni Unite delle politiche educative inclusive, l'obiettivo 4 dell'Agenda 2030, è fondamentale che i governi garantiscano questo diritto. E gli ostacoli che troviamo è che, spesso, qualche volta, in alcune regioni del mondo, l'applicazione di politiche inclusive non è sempre rispettata. I governi non sempre capiscono l'importanza di un investimento che si fa oggi, ma il cui risultato magari si vedrà tra qualche anno. E quindi il nostro è un lavoro di advocacy, come si dice tecnicamente, cioè di convincimento dell'importanza di questa infrastruttura della conoscenza e è un lavoro di messa in atto di buone pratiche, concretamente nei singoli paesi. È questo che facciamo con gli insegnanti, è questo che facciamo con la protezione delle scuole nelle situazioni di conflitto, con l'educazione in situazioni di emergenza. Questa è la vera sfida, credo, del nuovo millennio. Il fatto che una istruzione più adeguata porti ad una maggiore integrazione e quindi ad una costruzione sempre più coesa della società. Questa è una sfida che a livello europeo l'UNESCO ha fatto propria, perché in effetti ha programmato come una delle sue attività principali per i prossimi anni questo progetto di educazione all'integrazione, all'integrazione di educazione dei migranti. Ma a livello di ogni Stato, a livello più locale, è altrettanto fondamentale impostare questo tipo di discorso e realizzare strutture, modalità, forme di integrazione educativa. Questo sia per non lasciare soli gli insegnanti, che devono essere i primi ad essere formati in questa direzione, a conoscere le differenze e a metterle in relazione. Sia poi anche per far capire in generale alle persone di cultura e religioni diverse che il loro vicino è una persona esattamente come loro, anche se magari su certi aspetti la pensa in maniera diversa. Sì, c'è bisogno di politiche educative, senz'altro, ma non solo, non bastano le politiche educative. C'è bisogno che l'immigrazione diventi un asse strategico delle politiche nei contesti locali, delle politiche nazionali ovviamente, ma anche a livello locale, locale regionale. Il livello locale delle politiche è qualcosa che spesso sfugge, ma comunque presenta delle esperienze, quindi delle buone pratiche, a volte già consolidate, molto interessanti. E quindi il lavoro che noi facciamo come ricercatori è di andare a cercare queste esperienze e di portarle all'attenzione di tutti. Bisogna cominciare a pensare che il portato culturale di altre persone diverse da noi, dell'altro, è qualcosa che arricchisce il patrimonio di tutti. Però per fare questo, per arrivare a questo, questo è l'obiettivo, per arrivare a questo appunto c'è bisogno di politiche educative e politiche territoriali, di contesto, di governance, di governance multilivello, che vanno costruite nel tempo e chiaramente la logica dell'emergenza, la politica dell'emergenza è basata soltanto sull'emergenza, è qualcosa che sta stretta. Il problema che troviamo è che quando si passa dal principio e dalla declinazione del principio in generale alla messa in atto delle politiche, allora ci sono degli ostacoli perché l'investimento in educazione ha un costo e quindi in una politica nazionale all'interno del Consiglio dei Ministri, se decido di investire in questo tipo di prospettiva del futuro del mio paese, è chiaro che magari devo risparmiare in altri e allora la battaglia diciamo tra settori si fa talvolta aspra e l'educazione non sempre vince, quindi noi dobbiamo diciamo convincere, ma più che convincere vorrei dire dimostrare con i dati, il rapporto fa questo, l'importanza del processo educativo. Certamente poi un conto è quello che accade all'interno di questa facoltà di teologia, all'interno della stessa Università della Svizzera italiana, che sono luoghi in qualche modo privilegiati in cui le persone si incontrano facendo insieme la stessa cosa, studiando insieme apprendendo, insegnando. Un conto è poi quello che accade al di fuori di questi muri, perché spesso capita naturalmente che la popolazione, le persone che devono interagire con questi altri soggetti provenienti da culture e tradizioni religiose diverse, non sempre abbiano la sensibilità e direi anche la capacità di aprirsi, di accogliere qualche cosa che risulta diverso, anche nel modo molto spesso, nel colore della pelle, nelle abitudini, nel modo anche di comunicare in maniera non verbale. Tutto questo è certamente un problema, tutto questo è un ulteriore livello di sfida che la facoltà di teologia ha accolto. L'ampliamento di sguardo non viene perché c'è una concezione spesso sbagliata di pensare al proprio territorio in maniera esclusiva. Intendo dire che si tratta di avere una visione ampia dal punto di vista di quello che succede nel mondo, dal punto di vista geopolitico, ma allo stesso tempo anche guardare ai territori, a quello che viene nelle città con gli occhi della geografia umana. Questo che significa? Significa che il territorio non è un qualcosa di astratto e di chiuso, è qualcosa di chiuso in sé, ma è qualcosa che è permeabile ai flussi. Questo spesso non viene capito. I flussi delle persone, i flussi della mobilità umana molto spesso possono arricchire, hanno arricchito di fatto, di fatto le città europee sono degli ibridi da un punto di vista culturale, però questo spesso non viene capito perché non c'è una visione di processo, manca questa visione di processo nella gente comune diciamo. Ma guardi, io sono un'ottimista ma non solo per questo, lo vedo tutto sommato positivamente perché alla fine noi sappiamo bene che c'è una generazione oggi di giovani che concretamente ha fatto della mobilità anche una propria scelta di vita, non sempre perché è costretta a spostarsi. Noi dobbiamo agevolare questi processi, ma controllarli, ma essere in grado di dare delle vere possibilità di vita migliore. Questo è i nostri giovani in Europa, così come i giovani che vengono da altri paesi. C'è un'iniziativa molto importante che voglio citarle, che l'UNESCO ha preso da anni e che sarà finalizzata alla conferenza generale quest'anno a novembre, ed è la Convenzione globale per il conoscimento dei titoli universitari e professionali. E questo, guardi, è un passaporto della conoscenza che potrà servire a democratizzare la conoscenza stessa. Perché se io mi sposto come rifugiato o come migrante e ho fatto una parte di studi universitari che non posso dimostrare con un certificato di aver fatto, se ho uno strumento internazionale che certifica le mie competenze e mi consente di fare il mio lavoro, il mio mestiere nel paese in cui mi trovo, è un arricchimento per me, ma è un arricchimento per il paese. E quindi anche questo aspetto, che sembra un aspetto formale ma è sostanziale, diventerà una parte di questo processo a cui il sistema multilaterale e l'UNESCO in esso dedica tutte le energie in questo momento.